I temi che abbiamo affrontato vanno da l'unità della politica europea sulla sicurezza e sulla politica estera, il continuo supporto all'Ucraina con ogni forma di assistenza necessaria, ma naturalmente anche in questi ultimi giorni abbiamo visto quello che è accaduto, che ha fatto emergere ancora di più la debolezza di Putin e il fallimento della sua invasione criminale nazionalista. Questo tema del nazionalismo sia di monito ad un'Unione Europea dove è importante invece che prevalga l'integrazione sempre maggiore delle politiche comunitarie, perché i nazionalismi in questo continente hanno sempre portato solo una cosa nella nostra storia alle guerre, compresa quest'ultima su cui è bene che l'Unione continua a rispondere in maniera compatta e forte.